Queste prime quattro partite, lei deve stare zitto, non ci siamo, io non ho il potere di concentrarmi e pensare a lei lì, altrimenti dico parola a De Minchiam, il problema è questo qui, non riesco assolutamente, va bene, perché io vi faccio fare il lavoro vostro penso con estrema serietà, lei mi urla, si mette le cuffie, esatto, esatto, la scusa, ma il problema è così. C'è un po' di nervosismo. Non c'è il nervosismo, io ho bisogno di serenità per esprimere, altrimenti a caldo io non faccio niente. Così parlo scoglio.